ciao a tutti sono ernestina dalla corte lucio e benvenuti a una nuova puntata di ernestina dalla fine del mondo eccellenze dolomitiche oggi dedichiamo la puntata a un'eccellenza dolomitica il gelato artigianale bellunese c'è con noi sandro molin pradel maestro gelatiere bellunese dirigente sportivo e insegnante in un corso di gelato artigianale molto speciale qui alla fine del mondo ciao sandro benvenuto è un piacere averti oggi qui con noi ti saluto come va ciao ernestina è un piacere anche per me va tutto benissimo un po al freddo a differenza tua che sei al caldo c'è la malietta qui siamo sotto zero già da qualche giorno no sai che qui alla fine del mondo già si sembra l'estate praticamente bene sandro e grazie per essere qui con noi prima di iniziare in modo un po che i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su radio avm voce delle dolomiti e ti conoscano un po di più perché non ti presenti raccontaci qualcosa su di te certo volentieri allora intanto mi chiamo sandro molin pradel quindi con un cognome tipico bellunese infatti sono nato a bolzano ma sono questo momento sono a zoldo infatti ho della stagione invernale sono quasi sempre qui a zoldo appunto dove sono nati i miei genitori e abbiamo una tradizione di gelateria già da parecchie parecchie generazioni e diciamo che tre generazioni fa mio nonno ha aperto una gelateria proprio a bolzano e lì insomma ci lavoro anch'io ho avuto anche altre esperienze lavorando in una gelateria che ho aperto a malta e poi anche in norvegia ma adesso sono tornato in Italia ma ci racconterai ora certamente sandro hai parlato un po di bolzano e zoldo quanto distante sono una dall'altra allora bolzano zoldo in linea d'aria non sono tanto lontane però ci sono tre passi da dover fare quindi diventa un po più complicato diciamo che sono due ore e mezza circa di macchina se no sarebbero circa mi sembra 99 chilometri in tutto quindi non è tantissimo ma vorrei che i nostri ascoltatori possano viaggiare un po con l'immaginazione e ci trasferiamo lì a zoldo puoi raccontare un po del territorio dove vivi tu com'è sì 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 anzi proprio ci tengo perché proprio mi piace un sacco beh diciamo che proprio qui a zoldo sembra di essere rimasti un po proprio lavorano come un tempo proprio quindi anche la tradizione del gelato è rimasta proprio quella non hanno non sono sono rimasti con le vecchie tradizioni di come fare il gelato quindi anche macchine vengono utilizzate spesso macchine vecchie preferite a macchine nuove e tutto l'ambiente anche è molto caratteristico no proprio il tipico ambiente di montagna quindi proprio montanari veri diciamo no e a me piace veramente molto bolzano diciamo che invece è un po diverso è più chiaramente la città però diciamo che sempre quest'area adoro mitica si sente quindi diciamo che non si non mi sento a casa sia qui a zoldo che a bolzano mi sento a casa da tutte e due le parti diciamo ma che interessante ma un po la panoramica è simile una dall'altra diciamo forse non tutti i nostri ascoltatori conoscono bene ci sono certamente delle montagne come sono come vedi tu tutti i giorni lì quella panoramica immagino mozza piatto eh sì questo sì questo sì questo questo cambia molto in effetti perché qui sono proprio cioè non posso neanche dire di essere vicino alle dolomiti ma sono proprio sulle dolomiti perché mi trovo a 1250 metri di altezza e ho proprio le dolomiti alte o proprio il civetta che arriva più di 2800 metri ho il pelmo vicino quindi diciamo che ho proprio una vista veramente molto affiato ci sono solo 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 dolomiti quindi boschi fiumi è veramente proprio bello si respira proprio quest'aria quest'aria sana anche direi è quella forse la il punto di forza che c'è qui infatti in tanti mi chiedono anche come mai il gelato delle dolomiti è così buono secondo me è proprio anche l'aria che fa la differenza diciamo oltre che la tradizione la conoscenza questo è chiaro ecco beh parlando un po di gelato ed è anche patrimonio unesco come le dolomiti quel bellissimo posto dove vivi e dove anche un po nato anche un po gelato e raccontaci come nasce la tua passione hai menzionato che è di famiglia esatto si è di famiglia e questa è un ottimo domanda perché in tanti danno per scontato che mi sia sempre piaciuto invece non è assolutamente così raccontaci il gelato si mi è sempre piaciuto da mangiare però diciamo lavorare in gelateria non mi è proprio sempre piaciuto diciamo che quando ero più più giovane più piccolino adesso ho 37 anni è diverso ma quando avevo 16 17 anni che comunque andavo a scuola vedevo che i miei genitori avevano bisogno andavo ad aiutare però non è che fosse proprio bellissimo diciamo perché chiaramente anche con poche esperienze mi dovevo andare a fare le cose un po meno un po meno belle insomma no prima di andare proprio a lavorare su una macchina da gelato nel passato di tempo finché a un certo momento verso i 23 24 anni ho proprio pensato non ho questo lavoro proprio non mi piace ho fatto tutt'altro ho insegnato informatica per tre anni poi ho continuato a farlo anche dopo però in mesi invernali e poi invece ho detto ma sai che tutto sommato lavorare in gelatia non è male infatti ho iniziato a formarmi anche di più perché mio padre è stato presidente italiano di gelatieri per 15 anni quindi ha anche sempre insegnato e anche altre persone allora ho detto ma sai cosa vado anche a fare un corso proprio con lui a vedere mi è piaciuto proprio tanto e dall'opera ho preso la passione e mi sono detto ma sì andiamo avanti con questo lavoro anche perché insomma la tradizione diciamo che la tradizione è anche una cosa bella perché è una delle poche cose che non si possono comprare diciamo no è che interessante quello mi piacciono non si possono comprare perché è parte della storia e poi nella storia della tua famiglia ma avevi menzionato che anche tuo padre fa e penso anche tuo nono ancor prima da quando che il mondo del gelato nella tua famiglia esatto esatto sì 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 allora mio padre si ha già avuto la gelateria tra l'altro lui ha aperto anche due gelaterie in sud africa poi più avanti ma prima nel 1956 non devo fare brutte figure mi raccomando ha aperto la prima gelateria di bolzano proprio mio nonno che si è trasferito da da zoldo per andare a bolzano è aperto la gelateria però in realtà la tradizione del gelato c'era già prima perché diciamo che qui a zoldo per chi non conoscesse zoldo è proprio un un paesino qui in provincia di belluno diciamo che tutti quanti hanno avuto che fare con il gelato non tutti magari hanno avuto una gelateria ma di sicuro tutti tutti ma proprio tutti tutti hanno fatto almeno una stagione in una gelateria da da qualche parte e principalmente sono gelaterie che sono state aperte appunto all'estero tanto in germania in austria e anche in argentina appunto e così via ah sì no ma interessante è anche sai che abbiamo intervistato qui nel nostro programma ernestina dalla fine del mondo abbiamo raccontato anche storie di migrazione di maestri gelatieri che sono venuti qui in argentina ma anche abbiamo parlato con uno che penso che tu conosci fausto bortolotto un grande maestro che abbiamo avuto l'onore di intervistare abbiamo fatto delle bellissime puntate e c'è un altro bortolotto qui in argentina federico che lo ricordiamo anche con un bel pensiero una preghiera che non c'è più e che hanno fatto veramente è una bellissima esperienza hanno fatto un po storia del gelato bellunese sia belluno che nel mondo come qui la fine del mondo l'argentina è veramente è molto bello anche abbiamo tante gelaterie sì dimmi sandro che alzi la mano posso dire una cosa perché se no mi dimentico che hai menzionato fausto bortolotto devo raccontare un aneddoto perché io ho lavorato con lui mi sono trovato da dio proprio è che è bravissimo veramente un grande fausto abbiamo lavorato insieme nel 2017 siamo andati in marocco con la fiera di longarone a una fiera la più grande fiera dell'africa dell'alimentazione che si chiama cremai eravamo a casa blanca a un certo momento abbiamo scoperto lì sul momento abbiamo scoperto che gli unici due che dovevano fare gelato eravamo io e lui e dovevamo fare gelato per riempire cinque vetrine di gelato dove il gelato questa fiera veniva dato gratis quindi potete immaginare quanto gelato venisse prodotto ogni giorno ecco bene allora abbiamo lavorato io e fausto da soli con una macchina solo da gelato ma abbiamo lavorato veramente ininterrottamente per 16 ore al giorno solo che io ogni tanto mi fermavo andavo magari a mangiare o in bagno fausto non si fermava mai magari alla mezzanotte e c'era fausto che aveva ancora il coraggio di dirmi va dai andiamo a farci un giro io guardavo fausto no io vado a dormire che domani sarà una giornata ancora peggio di oggi e quindi lo ricordo sempre benissimo tra l'altro lo vedrò anche lo vedrò anche a breve che appunto qui a longarone ci sarà la fiera mostra internazionale del gelato proprio a breve è che si raccontarei anche ma fausto tanta energia tanta passione quindi è veramente un maestro gelatiere un orgoglio anche non solo a Belluno ma anche per tutti quelli che lo conosciamo inviamo un saluto grande a lui e alla sua famiglia a Rita a tutti beh ma è vero quello che dici del di come anche del gelato e ti voglio chiedere una cosa Sandro per esempio si sente molto dire il gelato artigianale e poi c'è l'altro gelato cosa che fa la differenza tra gelato artigianale e quello forse industriale ci puoi raccontare sì certo diciamo che il gelato artigianale gelato industriale sono proprio due prodotti completamente diversi molto spesso si fa si ha difficoltà a capire veramente che cos'è il gelato artigianale perché il gelato industriale invece si sa bene che cosa sia un gelato industriale tipo non posso fare pubblicità diciamo quindi il cornetto che si può prendere direttamente al bar oppure il gelato su steco che si prende al bar che quindi si trova già anche in questi freezer adibiti grandi grandi marche e così via e quelli sono sono dei gelati che vengono prodotti e hanno principalmente più molti più grassi e in più hanno sono viene il sistema per la mantecazione di questo gelato in realtà è più un sistema simile a quello della panna montata quindi viene sparata dell'aria dentro è un gelato anche direi anche anche buono non è necessariamente detto che un gelato artigianale sia necessariamente migliore di un gelato industriale questo assolutamente no il problema vero invece sono i finti gelati artigianali che spesso quando si va in giro si vede un gelato invece che in queste vetrine chiuse e così via si vede un gelato nelle vaschette con che magari monta tantissimo con dei colori molto strani quello invece è un finto gelato artigianale nel senso che sì è artigianale perché è stato fatto da una persona però in realtà è semplicemente gelato e viene cioè gelato da una persona e il vero gelato artigianale è un gelato fatto con un certo tipo di tradizione di know how e anche di ingredienti di qualità quindi quello è la vera differenza appunto un gelato industriale può avere anche queste caratteristiche non è assolutamente detto con gelato industriale non abbia prodotti altissima qualità anzi come ripeto il problema sono proprio questi gelati finti artigianali quindi anche qui se posso dare un consiglio diffidate quando vedete dei colori un po troppo fosforescenti o un azzurro o un verde troppo acceso e così via quindi diciamo che la grande differenza appunto sono i gelati artigianali i finti gelati artigianali e gelati industriali come vi dicevo sono quelli che sono già confezionati i gelati finti artigianali invece molto spesso sono hanno delle grosse montagne hanno dei colori troppo accesi e molto spesso quando si assaggiano si sente anche che sanno un po di finto mentre un gelato artigianale vero è proprio c'è proprio una tradizione un know how un certo tipo di lavorazione è un certo tipo di prodotto e questo tipo di gelato qui invece è completamente diverso e anche deve avere anche delle caratteristiche particolari affinché si si forme in questo gelato quindi non può essere neanche né troppo grasso né troppo pieno di zuccheri e così via non voglio essere troppo tecnico scusate no no ma ci interessa perché tutti quelli che non conosciamo così tanto un'ottima opportunità per poter scoprire e anche per poter imparare a poi differenziare un gelato o almeno sapere che forse buono ma non è forse gelato artigianale è un altro tipo di gelato e tu Sandro nella gelateria della tua famiglia quale tipo di gelato si fa no beh noi appunto siccome abbiamo diciamo che noi abbiamo imparato noi diciamo la nostra famiglia ha imparato a fare gelato ancora prima che esistessero questi prodotti artificiali quindi diciamo che non siamo neanche mai stati intaccati da questi prodotti artificiali e quindi facciamo assolutamente gelato artigianale quello vero infatti io ci tengo sempre a sottolineare gelato artigianale naturale quindi proprio alla ricerca di prodotti naturali poi tra l'altro io mio papà un pochino mi prende in giro perché dice che sono un po un rompiscatole lo ammetto non posso negarlo cerco anche per esempio quando si parla di uova nel gelato si utilizza il tuorlo quindi la parte gialla del dell'uovo ecco io cerco di prendere l'uovo fresco cerco di prendere l'uovo fresco allevato a terra da galline libere possibilmente bio sono un po un rompiscatole diciamo quindi vado a cercare proprio gli ingredienti quelli più di qualità so che poi dopo dal punto di vista tra virgolette imprenditoriale il gelato che io faccio costa di più come ingredienti quindi mi costa di più farlo però io personalmente non riuscirei a vendere qualcosa se a me non piace diciamo quindi non vedo perché se invito degli amici faccio una pasta cercando di fare di prendere gli ingredienti migliori non vedo perché quando vado a fare il mio gelato non devo fare lo stesso diciamo diciamo è una ricerca che che faccio continua continuamente insomma è certamente poi una curiosità come si chiama la gelateria della tua famiglia ecco qua si può tradire perché sì allora va bene no scherzo no la gelateria si chiama gelateria cadore come è nato il nome infatti questo ho sempre chiesto anch'io ai miei genitori perché di fatto noi non veniamo dalla zona del cadore ma appunto veniamo dalla parte di zoldo ma mi hanno raccontato che mio nonno quando ha scelto il nome e qui in italia da quello che ho capito negli anni 50 c'era una canzone che parlava del cadore però così è stato detto ma non ho poi investigato e quindi diciamo che la parola cadore era già nell'orecchio un po di tutti quanti mentre zoldo era un nome che non avrebbe riconosciuto nessuno e quindi è stata scelta il nome il nome cadore diciamo è bello come nome e sa che mi viene in mente la canzone la bella del cadore non so se forse quella è quella dimmi si vede che sei tu preparata di me no dai tranquillo perché anche l'ho sentita molto bella al di là che è triste certamente ma una melodia è bello sempre sentire questi racconti popolari e poi sai che ti devo dire noi in argentina abbiamo anche una famosa gelateria di nome anche cadore si trova in centro della città di un buenos aires e della capitale del paese dell'argentina è che è eredità belunese una famiglia olivoto che ha creato qui anche tutto un marchio di qualità tanto di essere riconosciuta come una delle migliori gelaterie al mondo da il national geographic abbiamo già fatto un'intervista a gabriel famà il suo responsabile anche nipote che con tanto orgoglio portano avanti questa eredità belunese questa eccellenza dolomitica del gelato e ti dico pure da essere piaciuto da andrea vocelli che dice che è stato uno dei gelati più buoni che ha mai assaggiato qui in argentina abbiamo anche avuto opportunità di raccontare quella storia anche con elisa che lei è discendente anche di una famiglia di maestri gelatieri di vodo di cadore per esempio approfitto per salutare tanto elisa che gabriel veramente fanno un ottimo lavoro lì e sono ti dico un simbolo di orgoglio per tutti noi bellunesi e discendenti di bellunesi qui non solo a buenos aires ma anche in argentina perché sanno fare un gelato di eccellenza quindi veramente molto 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 bello e lo volevo condividere anche con te e con i nostri ascoltatori e tu sandro sei parte di un progetto molto interessante che punta a condividere questo mestiere questo sapere è un progetto che è un corso che coinvolge anche l'argentina ci puoi raccontare un po' si volentieri volevo solamente dire un aneddoto sulla gelateria cadore a buenos aires e nel 2011 ormai mamma mia sono passati dieci anni mi rendo conto di essere vecchio adesso non sei mica vecchio dai sei dove ho conosciuto una una ragazza bolzano che aveva fatto lo scambio interculturale ed era venuta un anno a fare appunto la scuola bolzano e lei era di buenos aires e l'ho portata nella mia gelateria che si chiama appunto gelateria cadore e ha guardato fa ma come e sta una gelateria anche qua gelateria cadore anche qui infatti da lì avevo scoperto l'esistenza della gelateria cadore in argentina infatti ecco ma guarda è molto famosa anche molto molto nota fanno un gelato buonissimo veramente guarda mi viene già voglia di assaggiare nuovamente non vedo l'ora di venire anch'io in argentina per assaggiare sei mai stato tu qui alla fine del mondo in argentina e no purtroppo no però spero di venirci presto speriamo che si possa appunto perché proprio parlando di questo mia riesco a parlare di riesco a rispondere alla domanda che mi hai fatto appunto questo corso abbiamo finito la parte teorica e doveva iniziare subito la parte pratica proprio in argentina e dovevo essere lì adesso mentre appunto per il problema del cove non si può e dovrei venire a febbraio comunque speriamo ma prima sandro raccontaci un po come si chiama questo corso come è nata e da chi è nata questa idea puoi raccontarci sì certo allora diciamo che intanto corsi di gelateria appunto con mio papà nel 2011 abbiamo creato questo questa cooperativa che si chiama liag abbiamo iniziato a fare corsi un po in giro per il mondo ho fatto ho lavorato in mozambico ho lavorato in sudafrica ho lavorato da varie parti poi tre anni fa ho conosciuto un ragazzo di nome davide pedrolli che ringrazio che è diventato adesso mio socio in tantissime attività e lui è un ragazzo trentino che è sempre stato iscritto all'associazione trentini del mondo e un giorno mi ha detto si potrebbe pensare di fare qualcosa per in argentina perché io ho dei contatti con delle persone che fanno parte trentino del mondo in argentina allora gli ho detto perché no volentieri insomma non sarebbe una brutta cosa anzi sarebbe bellissimo anche pensando appunto al fatto che tantissimi tantissime persone proprio da qui dalla provincia di belluna provincia di trento e così via sono sono andati sono andati in argentina a cercare fortuna a fare a fare di tutto diciamo era una cosa che mi orgogliva anche parecchio insomma allora ho detto sì bene e con uno di questi coordinatori della trentina del mondo che appunto è riuscito a mettersi in contatto con i coordinatori della bellunesi nel mondo e così via abbiamo pensato di provare a proporre questo questo corso a delle persone chiaramente questo l'abbiamo siamo riusciti a farlo grazie all'aiuto soprattutto di università e di consolati del comites che non sapevo che cosa fosse l'ho scoperto grazie a questo corso ho scoperto essere una cosa importantissima da voi in argentina e anche in tutto il mondo non è che solo sono qui in argentini comites eh sì no infatti è che si vede che è proprio sono ignoranti da questo punto di vista no tranquillo è per gli italiani nel mondo tu sei sempre in italia no non ti preoccupare dai infatti e appunto siamo riusciti a creare questa questa rete piuttosto grande grande quindi abbiamo eh messo insieme eh mi sembra circa cinque o sei comites dell'argentina cinque università argentine università eh l'università di trento eh la bellunesi nel mondo la trentina del mondo e anche altre altre realtà e mi hanno detto beh proviamo a vedere se c'è richiesta di questo questo corso abbiamo fatto abbiamo provato e abbiamo pensato un massimo di 80 persone invece abbiamo avuto più di 300 iscritti e quindi purtroppo abbiamo anche dovuto dire di no a parecchie persone almeno per quest'anno intanto e quindi questo corso è partito il 7 di settembre e l'idea era appunto di fare questo corso online la prima parte quindi una parte di 60 ore online dove non c'era solamente io come insegnante ma appunto ci sono stati insegnanti anche c'era un dietologo che parlava c'era una una ricercatrice universitaria biologa c'era un agronomo tutti quanti tutte quante persone che conosco miei amici insomma che sono riuscito a coinvolgere in questo progetto ed è stato veramente un successo sono veramente molto 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 felice e adesso appunto attendiamo di poter fare la parte pratica sperando di poterla fare appunto a febbraio e ringrazio tutti quanti e partire appunto da oppure da bellunesi nel mondo da tanti nel mondo da tutti quanti i consolati perché insomma grazie a loro siamo riusciti a fare a fare questo perché io ero l'insegnante questo è vero però se non c'è una rete non si può fare nulla diciamo e quindi sono veramente molto molto felice e da quello che sento anche da altri paesi e si pensa anche stanno anche pensando di proporre questo questo corso anche in altre nazioni ho sentito vediamo speriamo non mi dispiacerebbe come cosa anche perché diciamo che è un scusami se ti ho interrotto è un sistema un po un po nuovo ma secondo me è interessante il fatto che molto spesso si fanno purtroppo i corsi di gelateria sono fatti o da chi ti vende le macchine o da chi ti vende i prodotti per il gelato difficilmente un gelatiere ti fa il corso non tanto perché vuole tenersi le ricette per sé ma proprio anche perché non ha tempo quindi qua sembra che io stia dicendo che c'ho tanto tempo non è questo il discorso ma intendo che il fatto è che ho voluto proprio non incentrare il corso su di me come persona ma appunto cercando di portare più possibile professionisti del settore quindi come dicevo prima c'era l'agronomo che ha parlato del latte la biologa che ha parlato della pastorizzazione così via quindi io c'ero ero più o meno diciamo il coordinatore del corso l'insegnante principale però mi sono occupato solo dell'aspetto proprio gelato diciamo e questo secondo me è stata una cosa forse il nostro punto di forza sia su sugli iscritti diciamo gli alunni gli studenti come possiamo definirli non lo so ma anche dal punto di vista degli istituzioni penso che abbiano creduto in questo in questo corso proprio per questo no perché non era tra virgolette un semplice gelatiere che si proponeva a fare un corso ma era proprio una sorta di corso oserei dire quasi non mi viene proprio la parola precisa però diciamo abbastanza rivoluzionario da questo punto di vista qua quindi un corso dall'altra parte del mondo dove c'era una parte teorica online e dove invece la parte pratica verrà fatta in sette città diverse dell'argentina ricordi alcune delle città dell'argentina dove progettate con questo corso di arrivare sì però non mi prendete in giro se la mia pronuncia sarà pessima allora io ti do una mano dai sì allora rio negro bravo provincia di rio negro sì mar del plata sì mitica città costiera italo argentina quasi ok poi la plata anche nella capitale della provincia di buenos aires molto bravo cordova provincia città anche sì sì con tanti bellunesi santa fe beh provincia di santa fe e gli altri due non me li ricordi tranquillo dai no ma stupendo ti ha ricordato sai che l'argentina è così lunga ti dico e anche il ripeto per i nostri ascoltatori che ci stanno sentendo sapete che l'italia solo l'italia rientra otto nove volte in tutto il territorio dell'argentina abbiamo più di tre milioni di chilometri quadri quindi è una pazzia quanto lunga è l'argentina anche una sfida che sai che hanno dovuto attraversare hanno dovuto far fronte diciamo tanti nostri migranti che dovevano spostarsi da forse il porto di buenos aires quando si arriva e poi il resto del paese no anche uno che forse conosce un bellunes famoso primo capraro che aveva lottato tanto per far arrivare il treno fino a bariloce una città dell'argentina che della quale lui è stato un progettatore un pionero diciamo come diciamo qui di quella città quindi speriamo veramente sandro si possa fare rispettiamo a braccia aperte sarà un piacere poter incontrarci speriamo che in sicurezza che tutto questo sia un po più più calmo in quel senso è tu oltre ad essere insegnante evento che sei stato organizzatore ma avete avuto diciamo qualche aiuto supporto o finanziamento da qualche istituzione sì allora appunto siamo stati aiutati parecchio anche potrei dire da dai vari consolati dalla provincia di trento e questa cosa mi piace molto perché devo dire appunto io sono originario di belluno sono nato a bolzano e vivo principalmente a bolzano e siamo stati aiutati alla provincia di trento quindi questa collaborazione mi piace tantissimo infatti diciamo che è stato proprio sono state riunite tre delle delle province delle dolomiti questa cosa mi piace tanto infatti tra l'altro anche i coordinatori della trentina nel mondo che mi hanno aiutato tantissimo mi hanno detto che erano sempre in contatto con i coordinatori della bellunesi nel mondo e anche questa cosa qua mi piaceva tantissimo perché insomma per me era molto importante per ovvi motivi insomma muovermi un po' con tutti era una cosa fondamentale e diciamo che principalmente appunto sono state queste 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 due istituzioni ad aiutare e tantissimo ha aiutato anche la trentini nel mondo proprio è sempre appunto aiutata anche dalla bellunesi nel mondo sia nella nella ricerca e nella diciamo nel coinvolgere gli iscritti quindi a andare anche a parlare con le istituzioni andare a cercare le istituzioni a cercare i finanziamenti diciamo che sostanzialmente i finanziamenti sono arrivati dalle ambasciate dai consolati e dalla e dalla provincia di trento però chi si è mosso per arrivare a questo sono stati appunto le associazioni della trentina nel mondo quindi questa cosa qua è stata molto 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 bella perché ripeto per me era importante perché capisco anche anche associazioni come potrebbero essere appunto la trentina nel mondo vedermi e dirmi magari sì ma tu cosa centri con noi trentini invece questa cosa non c'è stata è stata una cosa molto bella devo dire perché capisco insomma che se avessero cercato di privilegiare un trentino rispetto a me l'avrei capito devo dire la verità invece questa cosa non c'è stata mi è piaciuta veramente tanto è interessante vedere come raccontato tu evidenziato quel quella unione al di là delle frontiere diciamo anche perché ti dico anche tu penso sei un bellunesse nel mondo se sì in un punto quando ti trasferisci no ma sai che il bello anche che si può vedere che in tanti italiani quando vanno fuori dall'italia sono per il mondo che forse cadrà a te prossimo febbraio se riesce a venire qui in argentina e altre parti del mondo che fuori e diciamo c'è un po' diciamo tutti l'italia italiani non è che c'è una unione c'è una una confratellanza una fratellanza molto importante molto forte quindi lì come che tutte quelle cose un po non è che spariscono ma diciamo sono diventano più la gente diventa più nita diciamo almeno quanto ho visto io si cerca di essere sempre in comunità la classica storia dei paesani che si davano una mano nelle migrazioni quindi è veramente quello che si può vedere anche che quello che viene tramandato nelle generazioni no come i paesani si davano una mano per costruire la casa per mettere in su un'attività economica quindi quella forza quella solidarietà sono stati sempre presenti e parlando un po' di tramandare avevi menzionato che prima di questo corso quanto padre avevate organizzato corsi di formazioni no quanto pensi che sia importante poter tramandare questo mestiere perché lo dobbiamo fare ecco questa è un'ottima domanda posso solo dire una cosa prima che mi sono dimenticato di dire che è interessante perché prima io vi ho detto che mia mamma e mio pa sono nati a zoldo vi ho detto una non proprio bugia ma quasi perché in realtà mia mamma è nata in belgio da genitori che sono nati qui a zoldo poi mia mamma è tornata a zoldo quando aveva sette anni quindi sostanzialmente già i miei nonni erano bellunesi nel mondo bene bravi molto bravo erano andati in belgio a cercare lavoro e così quindi questo proprio visto che hai detto che siamo sempre tutti bellunesi nel mondo questo è vero lo devo proprio dire questa voglia di tramandare il lavoro di sicuro io vedo in tanti mi dicono una cosa che io do per scontato però poi pensandoci mi rendo conto che è vera ed è quello che probabilmente appunto c'è anche nel grandissimo fausto penso che la cosa che ci porta più avanti di tutto sia proprio la passione perché c'è quando tu fai un prodotto e sei soddisfatto del tuo prodotto del tuo prodotto e hai sempre voglia di cercare di migliorare il tuo prodotto la cosa che fai è quella di parlare 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 cercare di scambiarsi informazioni con chi è più bravo di te cercare di insegnare a chi inizialmente è meno bravo di te ma magari ti supera in altre cose e poi insomma questa sinergia diciamo no e questa cosa l'ho sempre l'ho sempre provata diciamo appunto anche il fatto che sono stato insegnante informatica quindi nell'informatica questa cosa è anche abbastanza normale no diciamo nella programmazione probabilmente ho ho spostato questa questa cosa dalla dall'informatica al gelato e mi è rimasta e questa sinergia questa voglia di informare come faccio una cosa e informarsi anche da altri come le fanno è una cosa molto molto importante infatti io dico sempre sì è vero insegno a fare gelato però io insegno il modo di fare gelato però poi dopo la scelta degli ingredienti così via io non impongo mai niente anzi questa è una cosa che mi piace tantissimo per esempio adesso sentivo proprio in questo corso che sto facendo da voi in argentina tantissimi che mi chiedono di fare un gelato al dulce de leche che io non ho neanche la minima idea di come si faccia e quindi bisogna sempre essere in movimento anche per il fatto che soprattutto quando si va all'estero l'idea di pensare bom aspetto porto il gelato italiano sfondo riesco a fare un sacco di soldi perché il gelato italiano è il migliore di tutti non sempre è così perché il know how è importantissimo ma poi dopo i gusti non è che puoi andare a stravolgere completamente i gusti delle persone quindi non so se dovessi io aprire una gelateria in argentina ok porterei i gusti che ho anche qui in italia però non è che non mi metterei a fare che ne so il dulce de leche o non mi metterei a fare l'erba mate giusto bravo sai che c'è una gelateria che fa il gelato d'erba mate bravo queste cose qui le proverei a fare diciamo no quindi cercare anche proprio prodotti del territorio e quindi chiaramente essendo che lavoro in giro per il mondo molto spesso imparo dei prodotti nuovi mi ricordo per esempio in mozambico una volta mi hanno portato un frutto gli ho guardato ma cosa è questa cosa ed era il frutto del pane che è una cosa gigantesca che io non avevo mai visto ho provato a fare il gelato con quello oppure anche anche frutti che normalmente magari in italia sono fatti in una determinata maniera in altri posti sono completamente diversi per esempio anche in norvegia dove appunto ho lavorato ho avuto una gelateria lì devo dire la verità il posto mi è piaciuto di più di tutti fino adesso e facevamo sempre un gelato anzi saluto anche il mio ex socio che ha ancora la gelateria che è veramente un grande e facevamo un gelato con un lampone giallo che si chiama molter che io non avevo mai sentito e quindi queste sono cose che mi piacciono quindi mi piace sia insegnare quello che so già proprio affinché le altre persone possano dire perfetto ma se tu hai fatto il gelato con il lampone si può fare con il lampone giallo e gli posso dire sì però bisogna vedere quanti zuccheri ha però con queste basi uno poi impara a fare il gelato come vuole e da queste cose imparo chiaramente anch'io e questa è la cosa che mi piace tantissimo proprio dell'insegnare devo dire la verità ah sì e poi mi racconterai un po' della tua esperienza lì in norvegia ma una cosa dell'argentina che siete posso dire è il fatto che qui c'è stata una magia speciale perché ha trovato sono abbinati diciamo il know how di maestri gelatieri belunesi che venivano qui prodotto delle migrazioni qui in argentina con materie prime di ottima qualità il latte argentino delle mucche argentine della della nostra terra è un po tutto no tutto quello che occorre per il gelato qui avevamo abbiamo ancora materie prime stupende che combinato diciamo unito a quel mestiere di maestri gelatieri fa anche un ottimo gelato no veramente anche un gelato artigianale parlando di gusti certamente il dulce di leche il dolce di latte è uno anche dei più famosi a me piace tantissimo è un gusto stupendo quindi già vedrò di speriamo di poter fartelo assaggiare e anche quello di erba mate non l'ho assaggiato ancora ma non so tu hai assaggiato il dolce di latte già per caso anche in italia si non il gelato al dulce di leche ma il dulce di leche si l'ho assaggiato perché me l'aveva fatto proprio questa mia amica argentina e cosa ti è sembrato continueremo a scoprire insieme la storia di sandro il suo legame con gelato artigianale nella prossima puntata vi aspetto prossima settimana intanto io vi saluto da qui nella fine del mondo e ricordate come dice il nostro motto vicino è lontani mai soli ringraziamo inazio dalla corte lucio per la musica è il montaggio e patrizia lucio alla regia ciao 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 Grazie a tutti.